Grazie, grazie a tutti. Allora proseguiamo i lavori della nostra giornata con la presentazione, diciamo, dei risultati di cinque anni di lavoro di Commissione Parlamento Europea sul tema della sostenibilità e quindi Green Deal e tutto il grande mondo che c'è intorno. Con noi c'è Carlo Corazza che abbiamo già conosciuto, direttore dell'ufficio del Parlamento Europeo in Italia e poi collegato con noi da Bruxelles Antonio De Susa Maia che è Legal e Policy Officer, direzione generale del mercato interno della Commissione Europea. E allora io, direttore Corazza, inizio da lei, arriviamo a questo evento con, diciamo, dopo cinque anni di intenso lavoro e quindi come spesso accade per le elezioni o per i compleanni, insomma, sono momenti di bilanci però anche di sguardi e di prospettive verso i prossimi cinque anni. L'abbiamo detto, siamo a un metro dal voto letteralmente. Allora, su che cosa sono stati fatti i più grandi passi avanti e invece quali prospettive abbiamo di fronte? Qual è l'Europa che stiamo vivendo in questo senso? Innanzitutto, perché abbiamo scelto anche questo evento per chiudere la campagna elettorale? Perché la sostenibilità, se in media il 70% delle cose che ci riguardano sono votate dal Parlamento Europeo, per la sostenibilità parliamo praticamente del 90%. Anche perché fiumi, mari, aria non hanno confini così netti e se uno deve avere una strategia seria per la lotta a cambiamenti climatici deve averla in una dimensione globale e l'unica forza economica e commerciale che è in grado di avere una dimensione globale è l'Unione Europea. I 27 Stati in ordine sparso non riuscirebbero a avere nessun impatto sulla lotta ai cambiamenti climatici. Il Parlamento Europeo è stato oggettivamente il Parlamento leader nella lotta ai cambiamenti climatici, alcuni dicono anche troppo, però insomma oggettivamente è stato così e lo ha fatto attuando una strategia ben precisa, un atto normativo, il Green Deal europeo che è stato approvato 5 anni fa all'inizio della legislatura. L'attuazione del Green Deal ha visto perseguire degli obiettivi molto ambiziosi, il Green Deal ha 5 pilastri, il primo sono gli obiettivi, il secondo sono i finanziamenti, poi c'è il quadro normativo, il mercato interno e la diplomazia del Green Deal, quello che noi cerchiamo di fare per spingere Cina, India e Stati Uniti a seguirci. I target li conoscete tutti, il 55% di immissione in meno al 2030, quindi è un target super ambizioso, motivo per cui il nostro pacchetto si chiama prepararsi al 55%, che vuol dire appunto al taglio del 55%. Lo abbiamo fatto intanto spostando i finanziamenti europei per un terzo sulla sostenibilità. Il bilancio europeo ha 1.000 miliardi, dal 2021 al 2027, circa 300 di questi 1.000 miliardi sono legati alla sostenibilità. Se voi andate a vedere il bilancio dell'agricoltura, il bilancio di Orizzonto Europa, il bilancio di InvestEU, non voglio essere troppo tecnico, ma insomma vedrete che più o meno dal 25 al 40% di queste risorse c'è un legame con la sostenibilità. Next Generation, ossia quello che in Italia si dice PNRR, i 750 miliardi di Next Generation, sono anch'essi per un terzo, circa il 37%, legati alla sostenibilità. Vuol dire più o meno nei prossimi anni una media di 80-90 miliardi di soldi pubblici che devono accompagnare una transizione molto difficile, dove ci sono anche perdenti, non solo vincitori, dove sono in gioco tanti posti di lavoro, dove è in gioco la competitività industriale, la competitività dell'agricoltura, il futuro dei pescatori, insomma dove la sostenibilità sociale e economica è un aspetto molto importante, anche perché senza sostenibilità sociale e economica poi manca anche quella politica, difficilmente dei parlamentari europei voteranno in futuro direttive e regolamenti sul Green Deal, se poi non sono sicuri di essere rieletti dopo averle votate, quindi insomma questa è anche una considerazione da tenere presente. Allora, cos'è andato storto in questa strategia? Io ovviamente sono pagato per difendere il Parlamento Europeo, quindi non posso criticare nessun atto normativo, però posso riportare il dibattito a cui ho assistito nell'ultimo mese, sono invitato a tantissimi dibattiti da Confindustria, giovani imprenditori, gli agricoltori, i pescatori, WWF, allora è un dibattito bello perché in democrazia è giusto che ci sia, alcuni spunti di questo dibattito li avete ascoltati, da un lato si parla di ideologia green, di poco ascolto all'industria, di un'accelerazione eccessiva, di poca attenzione alla politica industriale, di poca attenzione alla nostra sicurezza, vedi Cina e auto cinesi, ad esempio, auto elettriche cinesi, e dall'altro si parla, ovviamente, WWF, di mancanza di coraggio, di aver cominciato poi a fare marcia indietro sui pesticidi o su ripristinatura. Io credo che la prossima legislatura sicuramente avrà di nuovo in primo piano il Green Deal, se dovessi fare una previsione, ascoltando anche quello che ha detto da poco il leader del Partito Popolare Europeo, che come sapete sarà di nuovo il primo gruppo al Parlamento Europeo, Weber, credo che ci saranno dei ripensamenti, non sui target, i target sono lì e nessuno, io non ho sentito ancora nessuno, neanche Salvini, dire che non vogliamo una neutralità climatica al 2050, ci sarà forse un ripensamento per quanto riguarda la strategia di politica industriale, ossia noi abbiamo bisogno di un'industria forte, di una base industriale manufatturiera molto forte, proprio perché senza una base manufatturiera forte non riusciamo a fare la transizione, perché quello che ci serve di più è l'innovazione tecnologica e gli investimenti, allora l'80% dell'innovazione la fa l'industria e anche buona parte degli investimenti privati vengono dall'industria, quindi se noi indeboliamo un'industria europea andiamo in un vicolo cieco, rischiamo di delocalizzare ancora di più in Cina o in India o negli Stati Uniti e di trovarci un'Europa debole, senza sostenibilità economica, con pochi posti di lavoro e soprattutto senza lo strumento principale che ci serve a fare il Green Deal. Quindi l'ospicio di molti e anche il mio personale è che nella prossima legislatura, accanto al Green Deal, ci sia quello che era la parola d'ordine originale del Green Deal, era facciamo politica industriale con l'economia circolare, facciamo politica industriale con la transizione energetica e stiamo attenti alla nostra sicurezza, visto quello che è successo dopo l'invasione russa all'Ucraina. Ecco, siccome lei termina parlando di Russia e Ucraina e abbiamo già citato la Cina, l'India e molti altri attori, prima di tornare un minuto sulla sostenibilità rimango con lei sull'importanza del voto. Lei ha detto molte volte una cosa che io trovo molto interessante, partecipare e mandare anche un messaggio forte alle autocrazie. Che cosa vuol dire in questo senso? Allora, le autocrazie scommettono sull'Occidente decadente, cioè sull'Occidente che ormai ha una visione di... si divide sul politica di corrette, si divide negli Stati Uniti su temi come la Palestina o Israele, si divide, grazie alle fake news russe, anche sull'Ucraina e sull'invia di armi, è un accidente disorientato, poco focalizzato, poco attento ai suoi interessi. Però, di fatto, le autocrazie hanno paura della democrazia liberale, perché sanno che la democrazia liberale può essere anche molto vitale e essere creativa e attirare energie. Cosa fanno le autocrazie? Cercano di innebolire le democrazie. Lo fanno, l'ho detto prima, lo fanno in maniera che sono super studiate, su cui abbiamo tutti i dati possibili e immaginabili. Quando Borghi tira fuori la storia del surreale dell'articolo 1, dimenticandosi tutto il resto della Costituzione e tutto quello che è stato fatto dal 1950 a oggi, subito c'è un esercito di botte che spinge su dei sentimenti che abbiamo, perché chi è che non ha l'orgoglio della patria, la fierezza di essere italiani, tutte cose super legittime, ma se alterate dalla disinformazione, che diventano molto pericolose. Allora, la risposta migliore che noi possiamo dare non è votare per un partito o per un altro, quella è una cosa che riguarda le nostre coscienze, ma proprio andare a votare. È un segno di forza, di vitalità, di energia. La prima linfa vitale dell'enemozione liberale è la partecipazione dei cittadini. E io credo che è il momento di dare questo segnale per la nostra sicurezza, per il nostro interesse. Con riferimento alle materie che tratterà questo bellissimo evento a cui prendiamo parte, ce ne sono alcune che riguardano pienamente il motivo per cui noi, ma anche i giovani, dovrebbero andare a votare. Cioè, noi voteremo in queste elezioni su alcune cose che fanno parte del nostro quotidiano, assolutamente, ma per esempio quando si parla di moda e di retail, noi stiamo parlando di un voto che orienterà le scelte europee, evidentemente anche nazionali, in tema per esempio di fast fashion, di quello che sarà il futuro del fast fashion in Europa, strettamente legato, diciamo, alla nostra filiera, al nostro made in Italy. Insomma, come si fa a far capire che si vota su delle cose che impattano i nostri consumi quotidiani e il nostro modo, diciamo, di comportarci, di vivere? Perché? No, bisogna spiegarlo. L'evento di oggi è un'occasione, ad esempio, per far capire che la cosa che c'è più vicina, la cosa che proprio ogni giorno... Addosso. Ci abbiamo addosso tutti i giorni, è, come diceva molto bene prima Varela Mangani, è un atto politico, cioè se io prendo un vestito di fast fashion importato, che ne so, da Bangladesh, dove so che c'è il lavoro minorile, magari anche neanche pagato, o delle forme di schiavismo che ci sono state in passato anche in Cina, o paesi che non hanno nessun rispetto per, non solo per la sicurezza dei prodotti, ma anche appunto per la circolarità, per il riciclo e per il consumo delle risorse, faccio un'altra politica, magari inconsapevole, quindi la consapevolezza di noi consumatori, che siamo cittadini consumatori, è la prima cosa. E questa consapevolezza è spinta anche dalla normativa europea. L'Unione Europea spinge il consumatore a essere informato in maniera corretta, o a usare la riparazione o il riuso, lo spinge con delle normative molto avanzate, alcune sono state approvate pochi giorni fa, ad esempio la normativa sull'ecodesign, che consente a chi fa industria di progettare un prodotto, anche il tessile, in modo che possa durare più a lungo, avere meno consumo di risorse, essere riciclato e via dicendo. Io consumatore, sulla base di queste realizzazioni, ho un potere, ho il potere di esercitare una scelta di mercato che condiziona la mia industria. E badate bene che l'industria europea ha tutto vantaggio a puntare sulla sostenibilità, perché su questo noi siamo più forti, siamo più avanti, abbiamo più tecnologia, abbiamo più norme, siamo creativi, quindi siamo capaci di avere un valore aggiunto. Vi do un dato, il 60% dell'alta gamma si produce in Europa e buona parte di questa produzione avviene in Italia. Cioè noi siamo bravi a fare le cose di eccellenza e le cose di eccellenza le esportiamo in tutto il mondo, le esportiamo in tutto il mondo grazie alle norme dell'Unione Europea che ci hanno aperto dei mercati e delle opportunità. Quindi quando si va a votare bisogna essere consapevoli che anche il nostro futuro economico e occupazionale è legato a molte cose che fa il Parlamento Europeo. Ecco, in un certo senso delle volte c'è una cattiva interpretazione del fatto che c'è un prezzo da pagare per la transizione ecologica, per la sostenibilità, ma non si individua il fatto che invece probabilmente proteggendo in qualche modo le nostre filiere si creeranno delle opportunità di lavoro, per esempio. Il discorso che facciamo prima sull'industria. Noi senza un'industria manufatturiera non andiamo da nessuna parte. Qual è il rischio oggi? Il rischio è che ci troviamo stretti tra gli Stati Uniti che hanno messo sul piatto 3.000 miliardi col piano anti-inflazione e quindi stanno attirando tantissimi investimenti green di economia circolare industriali da loro, anche europei, e la Cina che da 20 anni col piano made in China 2025 sta sostituendo tutte le tecnologie europee per rafforzare la sua base industriale. L'anno scorso per la prima volta la Germania ha esportato più negli Stati Uniti che in Cina, proprio perché la Cina sta diventando autosufficiente anche rispetto a molte tecnologie tedesche. Quindi l'Europa che deve aprire gli occhi, la fine dell'età dell'innocenza è anche questa, l'Unione Europea si deve dare un bilancio per la politica industriale. Non possiamo pensare di continuare ad avere una transizione energetica di sostenibilità o digitale con un bilancio all'1%. O si rende permanente a next generation, oppure come propone Macron bisogna raddoppiare il bilancio europeo, fare un'unione fiscale, avere risorse proprie. Insomma questo è il tema dei temi, a tre giorni dalle elezioni la madre di tutte le battaglie è dare all'Unione Europea delle risorse sufficienti per avere una sua autonomia e avere una vera politica industriale, che parta anche dalle materie prime. Una domanda flash perché vedo che abbiamo un minuto. Come ha visto cambiare in questi cinque anni gli elettori? Per esempio, parleremo a lungo nel corso della giornata di come sono cambiati i consumatori. Sono cambiati anche gli elettori? Sono più esigenti? Sono più informati? Sono più bersagliati dalle fake news? Sono sicuramente più bersagliati dalle fake news, li vedo molto disorientati, onestamente io sono terrorizzato da una scarsa partecipazione al voto, io sono ottimista di natura, ma mi preoccupano molti discorsi da bar che sento, credo che ci sia anche un problema di informazione serio, sicuramente noi potremmo fare di più come istituzioni europee, ma anche il sistema di informazione, il giornalismo potrebbe contrastare ancora meglio di quanto già fate le fake news e aumentare la qualità dell'informazione su cui si vota. Non mi sembra che ci siano tanti altri antidoti all'assenzione. Io la ringrazio moltissima, allora con lei rinnovo l'appello a votare tutti quanti. Grazie. Andate a votare, grazie. Grazie, grazie. Grazie.